Siamo con Marco Zanfi, Marco portiere del Breganze, vittoria netta del Breganze per 6-2 sullo Scandiano. Quarti di finale che sono partiti bene, com'è andata Marco la partita? La partita ci aspettavamo, temevamo questa squadra perché la conosciamo anche dall'anno scorso, ha buoni giocatori, giovani, però hanno tanta tanta grinta e quindi finché non è finita c'è sempre un pericolo dietro l'angolo e l'abbiamo indovinata come partita perché nonostante un inizio un po' macchinoso siamo riusciti a prendere sopravento e finalmente siamo riusciti a capitalizzare bene le occasioni che è una cosa che vedo con i miei compagni che stiamo migliorando partita dopo partita, abbiamo avuto un inizio stagione in cui si faceva fatica sotto porta, invece adesso vedo che le palle entrano e questo giustamente ci inizia a rendere giustizia anche dal punto di vista del risultato. Assolutamente sì, abbiamo visto che il vostro apporto sia tuo che di Elia Zen con cui dividete diciamo così il tempo della partita e come ho sottolineato nelle interviste personalmente che ho fatto sia te che Elia sta comunque dando i suoi frutti e è importantissimo mantenere per voi la concentrazione durante la partita, diciamo che vi state aiutando a vicenda. Certo giustamente, noi siamo sempre stati ottimi amici fino alle giovanili e adesso che siamo in squadra insieme siamo gli stessi e nonostante sia questa competizione comunque veramente sana, cioè siamo ognuno ad aiutarci, siamo sempre contenti, sempre felici e scherziamo molto. Quando si arriva in pista giustamente lì ognuno va diciamo così per la sua parte del campo e alla fine è ovvio che ognuno cerca di essere il riferimento per la squadra, no? Quindi questo porta a un bilanciamento, ripeto, proprio pacifico, stiamo veramente bene insieme e l'apprezzo del suo arrivo perché permette proprio a entrambi di salire costantemente durante anche la settimana. Quando una settimana ha una giornata un po' no, il fatto che quell'altro magari sta in grado un po' meglio riporta subito l'altro a farsi sotto, a impegnarsi ancora di più è una cosa personalmente a me piace molto perché ti tiene sempre sul pezzo. E per noi da fuori è piacevole vedere questo tipo di collaborazione tra voi. Complimenti per questa sera e ci risentiamo a presto. Grazie mille. Grazie mille.